Sono pronti a spiegare le vele gli studenti del Nautico di Ortona che a bordo della Amassa, barca sequestrata alla criminalità a Siracusa ed affidata alla Lega Navale di Ortona, parteciperanno a due importanti regate veliche, la Barcolana a Trieste fino al 13 ottobre e la Veliziana il 20 ottobre a Venezia. La barca è intitolata al giusto lavorista Marco Biagi nell'ambito della campagna Un mare di legalità. Il presidente Marco Marsiglio ha portato il suo saluto agli studenti ed è stato accolto dalla Lega Navale di Ortona che ha illustrato i tanti progetti all'insegna dell'inclusione e dell'accessibilità. Una bellissima barca a vela di 14 metri sequestrata e confiscata ai trafficanti di esseri umani, consegnata alla Lega Navale e ai ragazzi dell'Istituto Tecnico Nautico. Parteciperanno a due delle regate più storiche, prestigiose, belle e affascinanti del mondo intero, non soltanto dell'Italia. Noi siamo orgogliosi e fieri che la Regione Abruzzo possa essere presente a questa iniziativa con una presenza di altissimo spessore etico e con dei ragazzi che stanno facendo una formazione esemplare in questo senso sia dal punto di vista tecnico-professionale come provetti marinai e come futuri operatori del mare, ma anche interpretando e vivendo fino in fondo questa dimensione etica sulla legalità che è bene che ispiri sempre la formazione dei nostri giovani. Luigi Polidoro, presidente della Lega Navale Italiana sezione di Ortona. Oggi è un momento importante soprattutto e anche per questi ragazzi. Sì, è un momento importante che va a coronare il grande lavoro fatto questa estate per avvicinare, avvicinare, portare la Lega ad essere conosciuta. Abbiamo organizzato questa partecipazione alla Barcolana e Veleziana di Venezia coinvolgendo l'Istituto Nautico che è una scuola d'eccellenza dalla nostra città e il governatore venendo a conoscenza di questa importante partecipazione ha voluto salutare la partenza di questi equipaggi. È un riconoscimento importante come dicevamo di quelle che sono state le attività estive dalla nostra sezione, dei tanti anni di impegno e di lavoro che hanno portato ad avere una Lega Navale Italiana, sezione di Ortona, elemento chiave, fulcro nella costa dei Trabocchi e soprattutto elemento che si caratterizza per una forte inclusività e una forte coesione con il territorio e le realtà che in effetti lo popolano e lo animano.